ciao amici del laboratorio artistico io sono carla oggi mi vedete col mio sketchbook che è qualcosa che a me piace molto portarmi in giro anche durante le vacanze voglio farvi vedere alcuni doodle questa parola adesso va di moda sono i doodle sarebbero gli schizzi gli scarabocchi cioè dei disegni semplici e divertenti il tema di oggi sono le piante e la mia idea di fare delle cose abbastanza semplici ma molto carine e decorative il punto di partenza è il rametto che semplicemente è una riga partiamo quindi dalla riga centrale e cominciamo a snodare a destra a sinistra delle foglioline che possono essere o simmetriche quindi le stesse foglie a destra che troviamo a sinistra oppure a simmetriche cioè magari una foglia un po più in su e una foglia un po più in giù invece dall'altra parte del rametto per prendere spunto e inventarmi delle decorazioni botaniche decorazioni di erbe così carine originali e molto piacevoli posso guardarmi semplicemente intorno i vasi di casa nel prato nell'aiuola come sono fatte le foglie ci sono foglie rotonde ci sono foglie allungate ci sono foglie con forme strane quindi a partire dal mio rametto di base che in genere io non disegno mai proprio dritto ma un pochino curvo io farò una foglia in punta e poi a sinistra mi invento anche delle simmetrie e dei ritmi diversi quindi magari in alto le foglie possono essere più strette e in basso man mano che scendo nel foglio posso fare delle foglie più larghe vi consiglio di fare un piccolo gioco prendete un foglio di brutta e provate a fare delle prove divertitevi inventate immaginate che comunque la natura è sempre molto più varia di quello che noi pensiamo quindi la foglia non ha sempre la stessa forma allungata che ci si aspetta ma può avere una forma anche più rotonda più frastagliata forma di cuore insomma primo guardatevi intorno secondo date sfogo alla vostra fantasia e divertitevi un altro spunto che vi do per divertirvi a fare delle cose molto carine e si potete colorare con i pennarelli semplicemente riempiendo gli spazi come facciamo sempre ma potete anche utilizzare delle texture cioè magari riempire a quadretti a righe a pallini per fare delle cose che sono non tanto realistiche ma molto carine divertenti e decorative a questo proposito ho già fatto dei video sulle texture con i pennarelli che potete trovare su www.squalarte.it ne approfitto per ricordarvi che sul sito se non vi siete ancora registrati registratevi la registrazione gratuita e con la registrazione avrete innanzitutto i contenuti gratuiti in pdf video e poi l'accesso ai corsi online con i prezzi promo che sono ancora validi oggi quindi insomma andate a dare un'occhiata ci sono tantissime cose per fare arte insieme soprattutto per fare arte facile e divertente con i bambini ciao a tutti da Carla buon'arte a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti